Che match si prospetta? Qua c'è dell'attio vero. Jesse Jones. Jesse Jones è sempre mattissimo dal pubblico, li guardiamo. Sempre stratifato, istrionico, guascone, un po' di gentilio caso. Irriconoscibile con le treccine. Che cos'è? Il peggio di sotto è bellissimo stasera. Si è addorzato per l'occasione. E DJJ? Cos'è DJ? Top player. Fa proprio bene con le treccine, la bellezza. Lo bello e bello carico, assolutamente. Jesse Jones. Che fa questo ingresso a fai correre a 32. Lo vedi che è un po' più serio del storico, il Jesse Jones. Eh sì, mi sembra un po' di no. Ricordi, mercoledì scorso, su Switch Forever, dicevamo che vincerà con quello che avrà più sete. Eh, questi Jones... Si è sentito un po' sottovalutato fa. Ma siete sicuri che non sia. Io quello con cui siete di presso. Ma qui entra uno che di sete ne ha molta. Un po' per la provenienza. Un po' per l'astione in compro di Tramis Fontana. Un po' per la posta in palio. Diretamente da Verona. Il braccio armato della rivoluzione. Tony Gallagher. Le mani più pesanti della federazione. Le mani più pesanti anche lui. Ha trovato bene per l'operazione. E anche qua, senti il pubblico, senti il pubblico. Scena di gara. Mantana è un chialenti per Jesse Jones. Non mi calda, Ganna. Come scalda il pubblico. Come scalda il pubblico. Il braccio armato della rivoluzione. Guarda Jesse Jones. Il sguardo concentrato sull'avversario. Jesse Jones. E con l'Ever 31. Tecnicamente Tony Gallagher ha salvato. Jesse Jones ha un festaggio. Ma... Insomma. Ma Jesse ha anche ventilato il fatto che forse è stato Tony Gallagher. La cosa era il blackout. La cosa dopo era il sconfitto. Quindi insomma. Sì, qua si parla di un blackout. Sì, sì. È stato strana. È stato buono. È contato il titolo Jesse Jones. Assolutamente. Ed entra il campione italiano di restri. All'inizio abbiamo accusato lui. Quello che sta entrando adesso. Ma da lui si è sconfato. Dicendo che hanno dato un motivo. Chi? Nessuno avrebbe potuto andare a spegnere. Perché effettivamente. Il suo alleato. Dei Vattas. Era lì. E era lì stesso di Giancarri. Quindi non potrebbe essere stato lui di andare a spegnere le notizie. Non lo so. Sempre degli amici. Credo. Se tu parli di scolpato da tutto ciò. Se hai distorsato. Però... È una stazione strana. È una stazione veramente veramente strana. Cappellino. Camicia nera. E cintura alla mano. Trevi spontanea. È pronto per il mini event. Quanto gli altri due sono amati nel pubblico. Tanto lui è poco amato. Ma ci credo. Ma ci credo. È bravissimo Trevi. Ha quegli appeggiamenti qua. Io ritrovo un resto recepionale che ogni tanto effettivamente... Diciamo che non rinna per simpatia. Ecco. Jesse Jones. Ma vorrei che notassi. E sul ring. Lo suono. No. Si è porano dietro a Fondi Rappas. È vero. È vero. Una volta si è rimasta dentro le quinte. Violli ad arbitrare le grandi occasioni. Sempre con la cintura in mano. La mostra a Tony. La mostra a Jesse. La mostra a Trevi. E la alza. In palio. È il titolo italiano. Fai Forever 32. Il gran finale. Siamo pronti. Siamo carichi. Chi ne uscirà vincitore. Abbiamo pronosticato. Io ho pronosticato Tony. Che ho pronosticato. Trevi. Trevi. Adesso il titolo. Manca ha pronosticato Jesse Jones. Eh sì. Siamo abbastanza divisi su questo. Trevi è abbastanza sicuro di vincere. Jesse Jones se ne è presa male. Perché non l'abbiamo pronosticato lui. Vero, vero, vero. Tony. Non gliene frega niente generalmente a Tony. Tony vince. Vuole vincere e basta. Tony vuole picchiare qualcuno. Vuole vincere. Vuole fare un paio di birre. Non gli interessa nulla dei pronostici. Non gli interessa nulla delle carte. Nella burocrazia. Delle scommesse. Lui vince. Tira schiavo. Vediamo. 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 Perché tra il centro del ring. Trevis. Trevis. Si toglie. Si toglie. Giocate voi. Non mi aspettavo altro. Da uno come Trevis Montana. Attenzione. Jesse Jones sguscia fuori dal ring. Lo vuole inseguire. Entre Tony. Si prende un attimo di pausa. Ricordiamo che se non tre potrete non si sono squalifiche. Quindi possono stare fuori dal ring quanto vogliono. Invece voltegini più squalifiche. Ma lei è male. Si sente la presenza dietro di sé. E scappa. Vuole scappare. Cominciamo con una facciata. Ma perché non due? Due facciate. E ma qui. Cioppissima da parte di Tony Callaghan. Una fucilata. Vedi Jesse deve... Anche Jesse Jones eserchisce il pubblico. Sprizza cappettino. Vettanera. Dio che dolore. Non fa rumore ma fa tanto. Quasi più male della giocca. E' una cosa che no. Io ho preso sposte l'entrico. Tony si è complimentato con Jesse. Quindi questo. Trevis è. Ciò che semini raccogli. Eh sì. Ha seminato odio, rancore da parte di tutti. E c'è cuore. C'è cuore. Ragazzi. Qua Jesse e Tony litigano per la preda. No, glielo ne voglio dare io. Le voglio dare io. Non voglio picchiare di più io. Lo piccio di più io. No, lo piccio di più. Trevis intanto la presenza. Oddio mio. Trevis sicuramente oggi rischia di prendere più che lo. Si so. Attenzione ci trova per lo schieramento. Ha cercato di furbizia ma... Spintone. Eh qua inizio da sentire. Senti sì, il sapore apposta in palio è alta. Però non si devono distrarre. Non si devono distrarre perché c'è Trevis sulla terza corda. Una bola. Ha preso l'avestato. Laccato. Fantastico. Tony Callaghan che ha con un salto di patate. Trevis Montana che sguscia in qualche modo. Deci Jones. Eita. L'ho mitata su Tony Callaghan. Trevis Montana è pronto per la Ushigo Roshi. Quasi congidata del match. Attenzione Tony Callaghan. Vuole provare la Freightmaster. Ho parato. Super di patate. Mamma mia. Ancora Deci Jones con il campione sulle spalle. E' già scherza giù. E va bene. Vuole provare lo schieramento per il titolo italiano. Ma qualche male. Stop sulla schiena. Stop sulla schiena. Perdebolisce ogni caso. L'unica speranza di Trevis è che gli altri due non si allenino troppo contro Di Lutero. Questo viene veramente cancellato. E' perché è riuscito a metterlo contro l'altro. Ma ha dato fuori Trevis Montana che scivola su Ring. E' cittone. Che spegne il campione italiano. Jesse Jones che va per un disaster kick. Un disaster kick fantastico. E chiama San Paolo d'Argor. Chiama tutto il pubblico di Fight Forever. Ed è l'unico in Tony Stirling e gli altri due sono andati a visitare il pubblico. Jesse Jones. E sale sulla seconda. Poi si chiama cazzuola. Altro Cefone. Cefone su Trevis. Cefone. Gara di Cefone. Jesse Jones. Sì, lancia. Senton. Senton. Sugli altri due. E ha fatto strike. Non ho mai visto Jesse Jones così serio, così concentrato. Ma nemmeno contro Johnny Vegas. Assolutamente. No, no. Anzi, contro Johnny Vegas è particolarmente in fase stupido, fastidiosa. Qua mi sembra che sia in fase concentrato barra mortale. E qua la vuole chiudere in fretta Jesse Jones. Mi sa che la posta in paglia alta. Abbiamo in paglia il titolo italiano di Wrestling. Questo benevento di Fight Forever. Jesse Jones. Face more than a cala. Ha presa la barba che ricordiamo che è assolutamente valida. È Silver. È Geomatic. Uno. Solo uno. Se già un saccia all'uno. Mi pentò di cala che non mi sono insieme di Trevis. Mi ha sperito fuori ring. Ci pensa bene. Stompone. Bellissimi calcioni di Trevis. Che cerca ancora lo sperimento. Neanche uno. Ti può poi chiedere all'albito di contare più veloce, ma neanche uno. Ti può contare veloce quanto vuoi, ma per ora. Nessuno non ha superato l'uno. Nessuno non ha superato l'uno. Nessuno non ha superato l'uno. Nessuno non ha superato l'altro. Nessuno non ha superato l'altro. Comunque tutti e tre gli avversari sono stati schienati l'ora, per nemmeno una volta. Sì, sì, sono venuti quando è. Facciamo delle statistiche, siamo tutti a capare. Forse... Forse Tony Callaghan è quello che è rimasto un po' più fuori. Sì, sì. Stanno concentrando sul lanciare fuori quello più grosso. Che non è una, ovviamente, una strategia cattiva. Insomma, anche perché quello, malesemente, Tony è quello che, quantomeno la matenuta fa più male. Anche se all'inizio pensavo che... Di vedere Travis più fuori dal ringa, no? E beh, ci ha provato all'inizio. Sì, ma... C'ha provato. Come chiama il pubblico, vuole prendere la rincosa. Attenzione! Bloccato da Travis. E' arrivato di Callaghan! Spallata di Mastagel! Si divide in due, Travis spontanea. Attenzione al saldo, Jesse Jones. Pericolosissimo. Oh, back elbow, si salva, si salva, salva. Jesse all'angolo. Lotto all'angolo, Jesse. Back elbow devastato. Nulla. La gara anche in treviso. Ma la sua! Oh, fantastico! Fantastico, raffinato. Di treviso da uno, due, e tre, no! Bloccato. Jesse sta in tempo a riprendersi e salva l'altazione. Bloccato da Jesse Jones. Mamma mia. Ma che botta ha tirato. Bloccato. Che botte ha tirato. Mamma mia. Bloccato da Jesse. Che ora guarda malissimo Tony Callaghan e viceversa. Spintoni. 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 Iniziamo. Oh, ceffone, gomitata, ceffone, aria, ciop. Ancora Tomaprika, cimentato, Trevis. Poli-shamber, ceffone. Ero per applicata. Ciop, pazzesca. Devincia a terra, Trevis. Che botta, mamma mia. Dobbio, back elbow. Trevis veramente, ogni volta che si avvicina, ne pia, cioè, è un coltello della costa. Senza di Tony Callaghan, c'è brava. Pelle kick! Pagoso. È partito uno schiaffituro. È un'inizio meravigliosamente bloccato da un pelle kick. Pelle kick. Jesse Jones, che ora indica la terza corda. Callaghan è proprio la posizione perfetta per la costa-costa. Per la costa-costa. Fa Trevis spontanea. Arriva. Lo colpisce, un colcio alla testa altissima, veramente. È una cosa di incredibile. Siamo sulla seconda corda, Tesho. E Trevis, mi sa che vuole andare per un superplex. Jesse Jones prova a liberarsi, ma Trevis lo tiene bene. Trevis lo prende. Trevis si rialza. Prende piatto. Oh, mazzata. No, Tori. No, Tori. Dieni giù, Tori. Attenzione! Una bella manovra nel wrestling. Jesse è catatonico. Il giusto italiano, uno, due. Solo conto di due. Ci prova anche su Trevis, uno. Due. E due. Due. Solo due. Appena, buonamma mia. Di essi sembrava essere stato spinto dalla colpa subito. Game in event. Eh, vabbè. Game in event. E' un fantastico livello. Tutti e tre in piedi. Ci è fuori a Trevis. C'è fuori a Jesse. Un pugno. A Ton. Giro di schiaffi. Ce n'è per tutti. European Uppercut. Un pugno. Europea. Jesse ha deciso di regalarne a tutti. Oh, che bello Jesse Jones con questo giro di Chop. Mamma mia. Oh, super giro. Ariad. Brutale. L'ultimo uomo a rimanere in piedi. Tony Callaghan che vuole chiudere l'attenzione. Vuole provare la Brain Buster sul ginocchio. Oh, meravigliosamente imparata. E' versata da Trevis Bonfari. Oh. E lo sappiamo. Luca. E' un bamb. Uno. Due. E' un bamb. Solo due. E' mezzo. Mamma mia. Tony non ne può più. Vuole fare l'abilità di Tony. Tony di Buster. E' finita. Uno. Due. E' da. Due a mano. E' di Vatlas. E' di Vatlas. Ricordiamo che non ci sono squalifiche. Quindi tutto quello che stiamo vedendo è assolutamente valido. Attenzione dei Vatlas. Vatlas carica la Spiar. Vuole aiutare Trevis Spiar. Spiar. Mamma una bomba a mano. E va Trevis. E' uno stop. E' finita. E' finita. E' finita. Non può rialzarsi. Vita l'italiano. Uno. Due. Tre. Jesse rompe tutto. Jesse Jones c'è. Eh ma adesso è un due contro uno. Votie. Votie. Attenzione. Super kick. Super kick. Super kick. Super kick. Votie. Votie va. Atlas. E' spento. E' Jesse Jones va. Jesse. Uscita. Uscita. E' finita. 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 No. Vai. Vai Jesse. Sì Jesse. Cosa. Jesse mi sa che vuole. Jesse. Attenzione. Stop. E' spento. Uno. Due. E' no. Che non succede. Un altro blackout. Che sta succedendo? Vediamo le figure su. Chi è? E' leggerissimi. Ma. C'è France. Sirio. E' un'altra figura. E' chi è l'altro? Che. Un blackout. E' bravito. Ma questa. Questa era una. C'è. Che cosa è su? Attenzione. Uno. Due. E' tre. Hanno regalato letteralmente la vittoria. Tre. Un blackout. Ma quello è Doblone. E' Doblone. Il leader delle crisi è Doblone. Un blackout generale che fa comparire le crisi. Sono stati loro. Sono stati loro. A impedire la vittoria Jesse. Sono stati loro. Ma poi. Doblone. Perché. Doblone sta. Comandando le crisi del fondo. Attenzione ancora. Un'altra. Un'altra Jolly Roger. Ma. Io sono senza parole. Non so se mi ha parole. Astro. Sirio. Ma. E va per un'altra. Attenzione. No. Qualcuno vada ad aiutarlo. E tre. E. No. Qualcuno lo aiuti. Un blackout. E l'eclissi. No mia. Con un nuovo membro. Con un leader. Non un nuovo membro. Con un capo. Il leader. Presedente il capo. Signore e signori. Quindi vi presentiamo blackout. Un leader. Un leader. Travis mancherettito. Jesse Jones. E' stato letteralmente disattivato. La nostra vita parole. La nostra vita parole. La nostra vita parole. La nostra vita parole. E' stato letteralmente disattivato. Grazie a tutti.